Una guerriera non abbandona il campo dei sogni inavverrati. E così è stato. Nadia Toffa ha mantenuto la sua promessa e non solo non è mai andata via, ma è proprio l'immagine di lei che balla il tramonto e che resta sospesa a mezz'aria come una presenza dalle tinte sfumate certe allo stesso tempo a ribadirne la presenza. Ti aspetterò tutta la vita, edito da Chiare Lettere, è una raccolta di pensieri che mette insieme poesie e prosa. Non esiste una sola metrica per la giornalista delle Iene, scomparsa a soli 40 anni il 13 agosto del 2019, ma parole che ricostruiscono un vissuto, quello della malattia in cui dolore, rabbia e incredulità si accendono fino a toccare il culmine per poi optare per un cambio di direzione. E le luci del tramonto diventano l'alba di un nuovo giorno, la speranza per tutti quelli che ce la possono fare. Il libro, presentato questa mattina dalla giornalista Alessandra Renzetti alla libreria Mondadori di Pescara, fa parte di un progetto e servirà, come le altre due pubblicazioni, Fiorire d'inverno e Non fate i bravi, alla ricerca contro il cancro. Una vera e propria missione della fondazione Nadia Toffa, di cui oltre a mamma e papà fa parte Don Maurizio Patricello, legato a Nadia da un rapporto di coraggio che la giovane inviata delle Iene, ha dimostrato di avere nell'affrontare la questione spinosa della terra dei fuochi. La fondazione Nadia Toffa è riuscita a mettere da parte 183 mila euro che sono stati donati all'ospedale di Brescia, dove Nadia ha trascorso i suoi ultimi giorni e con quei fondi è stato acquistato un macchinario, un neuronavigatore. Che serve al chirurgo che opera il cervello per vedere dove va a mettere le mani? Quindi la cosa diventa più facile. Io spero di poter fare tanti altri eventi, perché non è giusto che ce l'abbia solo Brescia. Dovrebbero averlo tutti gli ospedali perché potrebbero salvare tante tante persone. Ti aspetterò tutta la vita, una promessa che Nadia ha voluto fare alla madre. Un solo sguardo è bastato, da allora mi hai amato. Io sarò con te eternamente, la terra non potrà dividerci per niente, siamo la stessa mente. Come la malattia anche l'amore va guardato in faccia e vissuto per quello che può dare, qualsiasi fine potrà avere. Non c'è spazio per le fragilità di una donna nemmeno quando queste vengono accese da un abbandono doloroso. Chi va via è fragile, non chi resta. E Nadia balla ancora e ballerà per sempre.